Inter 1 Atletico Madrid 0 il primo atto di questi ottavi di finale di Champions League va all'Inter con l'Inter che vince grazie ad un gol di Marco Arnautovic al termine di una lunga battaglia che si conclude appunto con un gol al settantanovesimo minuto e poi si deciderà il passaggio del turno al ritorno. Siamo nel post partita e andiamo a fare come sempre le pagelle tutti insieme diamo i voti ai giocatori dell'Inter scesi in campo stasera lo facciamo con il nostro tier maker in cinque fasce inseriamo l'MVP per il migliore in campo top per quelli che sono andati particolarmente bene ok per quelli sulla sufficienza rimandato per quelli sotto la sufficienza e flop per quelli sotto la sufficienza che hanno particolarmente deluso anche se non vorrei essere troppo cattivo visto comunque l'importanza di questa partita e i voti secondo me vanno calibrati anche sul palcoscenico comunque giudichiamo le prestazioni partiamo da Jan Sommer che oggi sarebbe da senza voto in termini di quanto è stato sollecitato dal punto di vista del portiere nel senso proprio del ruolo visto che non ci sono stati tiri in porta ha fatto un paio di buone uscite anche su un calcio d'angolo bloccando il pallone alla fine una sbavatura con il pallone un po' rischiosa su un passaggio avventato qualche piccola imprecisione gli darei comunque l'ok perché stasera bene o male ha fatto qualcosa in più è comunque stato un pochino più coinvolto anche nel gioco per quanto riguarda la difesa partiamo da Pavard ragazzi Pavard allora intanto la difesa tutti e tre molto bene secondo me partiamo da questo presupposto dalla parte di Pavard c'era l'uomo probabilmente più scomodo come abbiamo detto all'inizio come Samuel Darmian oggi secondo me non gli ha dato purtroppo tantissima copertura devo dire tra i tre Darmian è quello che all'inizio soprattutto quando eravamo un pochino in difficoltà nel crescere con il gioco se ci avete fatto caso ha condotto anche il pallone molto cercando altri varchi si è dato molto da fare lui che con la sua esperienza ha fatto sicuramente ha fatto valere ecco la sua abitudine a questi palcoscenici ha giocato con grande tranquillità alla fine ha fatto anche tre anticipi veramente importanti Pavard lo metto sicuramente top ecco non MVP perché secondo me c'è chi ha fatto meglio per esempio a me Stefan De Vrij ragazzi è piaciuto tantissimo stasera c'era qualche preoccupazione leggevo anche prima della partita per l'assenza di di Acerbi ma oggi De Vrij ha fatto un partitone clamoroso un partitone clamoroso sempre attento in fase difensiva fa una chiusura clamorosa su Iorente veramente prezioso e fa un'azione ragazzi che io l'ho sottolineato in diretta vi invito a rivederla la troverete davvero da poche altre parti il centrale di difesa che si sgancia va a fare l'attaccante si ritrova in contropiede per poco fa anche l'assist a Lautaro Martinez gli è mancato l'ultimo tocco lo vedrete davvero da pochissime altre parti un giocatore giocare un centrale impiegato così mi è piaciuto moltissimo non abbiamo concesso nulla di clamoroso ai nostri avversari quindi i voti dei difensori devono essere inevitabilmente alti c'è stata secondo me solo una piccolissima diciamo disattenzione di De Vrij che ha seguito Griezmann a tutto campo nel secondo tempo poi si era alzato tantissimo ad un certo punto si è fatto trovare un po' fuori posizione in un momento in cui abbiamo un pochino rischiato e non era nemmeno così necessario che si alzasse però è stata una partita da top assoluto io lo metto leggermente sopra a Pavard sinceramente dall'altra parte Bastoni a me è piaciuto molto anche Bastoni devo dirlo si è proposto tanto a sinistra oggi Di Marco un po' appannato e non ha molto funzionato la connessione tra i due e quindi è stato Bastoni ad alzarsi un po' di più ad aiutare dietro non mi ricordo sinceramente sbavature anche dal punto di vista difensivo lo metto top anche lui sono tutti e tre su un livello molto simile ai difensori secondo me ricordiamo comunque che l'Atletico Madrid si ha giocato difensivamente oggi ma è uno dei migliori attacchi in circolazione e nella fase a gironi è stato il secondo miglior attacco della Champions dietro soltanto al Manchester City una squadra che segna tantissimo oggi zero tiri in porta centrocampisti Matteone Darmian ho letto tanti commenti negativi su Darmian un pochino ingenerosi in senso assoluto giudicando la partita in sé ha avuto tante difficoltà all'inizio nel lungo è cresciuto sicuramente in avanti purtroppo la spinta è stata poca io devo dire che stasera visti i voti molto alti non è una bocciatura Darmian si può mettere nei rimandati secondo me non è un rimandato da cinque come è di solito c'è da dire che come al solito ha dato tantissimo anche in questa partita aveva avuto la possibilità di rifiatare nella gara contro la Salernitana per me stasera è da rimandare per la prestazione in sé senza andare con quella cattiveria che stavo vedendo nei commenti stasera anche se poi nella seconda parte era cresciuto Barella ragazzi Barella a me è piaciuto tantissimo e chi ci stava seguendo in diretta mi avete sentito io al minuto cinque ho detto a Simone Simo ti voglio dire due cose però non so se dirle adesso le dirò dopo poi Barella l'ho detto Barella ragazzi ha fatto un partitone dall'inizio si era visto che ci aveva messo un'elettricità differente dentro questa partita e se l'Inter regge l'urto del centrocampo con gli altri due centrocampisti che non hanno fatto bene è merito soprattutto di un Barella tutto campo quindi sono contento che la chat stasera riconosca a Barella il ruolo di MVP e mi piace mi piace sono d'accordo no come sei Barella no 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 ho visto un'altra partita allora MVP assolutamente poi Cialanoglu ragazzi io su Cialanoglu purtroppo stasera l'ho visto in versione depotenziata lì in mezzo al campo diversi errori che da lui non mi aspetto ha fatto anche un paio di interventi in scivolata dove ha rischiato anche di andarsi a prendere falli e cartellini che poteva sicuramente evitare poi l'Inter è cresciuto e quindi è cresciuto anche lui ma a me Cialanoglu stasera non ha convinto per nulla devo dirlo devo dirlo no ok stasera ragazzi non riesco a darglielo io vi dico se diamo rimandato a Ciala a Darmian Ciala finisce nel flop mi dispiace no ma come mi dite ha fatto male il primo tempo Barella no no ragazzi no 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 non sono assolutamente d'accordo Barella mi dispiace Cialanoglu stasera il flop però ragazzi ricordiamo sempre che il flop non è un 4 eh intendiamolo sempre come nel contesto della partita io in una scala tra Cialanoglu stasera non mi è piaciuto non mi è piaciuto e vado anche a Mkhitaryan anche Mkhitaryan non è che abbia fatto molto meglio eh forse è cresciuto un pochino di più mh alla distanza eh rispetto a Cialanoglu secondo me eh rispetto a Ciala me lo ricordo un pochino più prezioso anche nel recupero di alcuni palloni in fase difensiva però io da Cialanoglu Mkhitaryan mi aspetto che eh ti incida molto anche in fase offensiva e e purtroppo in alcuni momenti no in alcuni momenti diversi palloni che ha avuto Mkhitaryan per eh andare ad attaccare la porta comunque per fare l'ultimo passaggio li ha sbagliati secondo me è un pochino in crescita di sicuro non è sufficiente dal mio punto di vista la prestazione di Mkhitaryan stasera nonostante la crescita eh tre beh tre mi sembra un pochino troppo siamo tra il rimandato e il flop tra il rimandato il flop no ok stasera non lo strappa secondo me ok ci sono altri ha sbagliato tanto però per me per me Mkhitaryan andrebbe alla pari di Ciala eh però la chat mi spinge sul rimandato quindi vi assecondo per me Mkhitaryan andrebbe alla pari di Ciala forse poco sopra per eh per il secondo tempo fatto un pochino in crescita e Di Marco Di Marco sta lì sta in quella di fascia lì secondo me sempre tra Ciala Mkhitaryan eh poco incisivo la differenza con l'ingresso in campo di Carlos Augusto lo fa sfigurare e si vede diciamo che ha un guizzo importante con un grande assist per Arnautovic eh che poi non mette non mette dentro ehm rimandato flop rimandato flop vedo un sacco di voti lì a a metà strada rimandato flop rimandato flop no più di loro no secondo me no più di loro no eh sicuramente merito dell'atletico però ragazzi io devo giudicare la prestazione eh lo mettiamo dai rimandato vi vedo rimandato lo mettiamo lo mettiamo lì poi andiamo eh ai due attaccanti allora e poi dopo facciamo i subentrati eh Turam Turam allora l'attacco oggi ha avuto difficoltà oggettivamente l'attacco ha avuto difficoltà eh c'è stato anche un grande Witzel che ha fatto davvero una una grande partita eh Turam eh un paio di sgasate molto buone e aveva servito una gran palla Lautaro Martinez che che si è mangiato eh diciamo che comunque ha avuto 40 minuti a disposizione nel momento più difficile della partita perché era ancora la fase di studio ed era il primo tempo quindi gli possiamo dare la sufficienza secondo me sì non andrei oltre l'ok sinceramente eh come prestazione Lautaro Martinez Lautaro Martinez eh ragazzi si è criticato tanto giustamente per gli errori sotto porta Arnautovic ehm anche lui comunque se l'è divorata eh un'occasione davanti a Doblac si è mangiato il tiro il pallone lo ha un po' masticato poi di testa ha fatto due bei colpi di testa alla Crespo un pochino centrali ehm ha sbagliato anche un altro gol anche se non era semplice ma sulla ribattuta arriva poi il gol di Arnautovic per fortuna ci ha messo tanta grinta ha lottato tantissimo ehm comunque entra in qualche modo nell'azione del gol e le azioni più pericolose lo vedono comunque protagonista quindi eh da lui ti aspetti che decida queste partite non lo ha fatto qualcuno storce il naso o secondo me comunque l'ok pieno in una battaglia come quella di oggi va dato e da quello che leggo in chat siamo più o meno sulla stessa linea poi eh andiamo ai subentrati subentrati ragazzi a me sono piaciuti praticamente sostanzialmente tutti perché partiamo da Arnautovic Arnautovic era incappato partiamo da Arnautovic quindi voti in chat ditemi che voto date ad Arnautovic eh Arnautovic è entrato con sarebbe stata la classica partita che gli abbiamo visto fare fin qui chiudendo sul quattro poi come valutazione perché davvero eh i gol pesano i gol pesano però poi trova paradossalmente il gol più difficile paradossalmente trova il gol più difficile col mancino e secondo me Arnautovic ha un problema intanto è un po' bloccato mentalmente diciamo così quindi deve sbloccarsi e questo gol spero e penso che possa dargli un po' di grinta in più e possa sbloccarlo ma ha il problema di voler fare le cose troppo complicate secondo me giochiamo più semplice soprattutto quando sei in un momento di un po' di difficoltà gioca più semplice sotto porta non provare a fare l'euro gol un po' la stessa cosa che dicevamo di Lautaro Martinez non provare a fare l'euro gol clamoroso piazzala mettila bene metti dentro sto pallone e poi dopo ne ne riparliamo e comunque diciamo che il suo lavoro spalla la porta in qualche modo è sempre utile eh se lo volete bocciare per le occasioni fallite posso in un certo senso capirlo ehm però comunque anche quei palloni ha smistato per Dumfries qualcosina ha fatto bene dai da quello che vedo eh vi vedo sull'ok alto tra l'ok e il top i due errori pesano perché dall'attaccante ti aspetti che segni però io qualche buon segnale ce lo vedo e speriamo che possa ripartire bene perché adesso che mancherà Turam sicuramente servirà poi Dumfries ragazzi Dumfries ha completamente ribaltato la partita l'inserimento di Dumfries ha ribaltato la partita io prima di questa gara se vi ricordate nella nostra analisi dicevo ehm Dumfries dovrebbe giocare secondo me lo dicevo prima ma mi fido di Inzaghi quindi secondo me Inzaghi ha avuto ragione evidentemente nel fare le sue scelte e Dumfries oggi altro grande ingresso aveva fatto molto bene con la serenità ne aveva fatto vedere cose buone nel finale contro la Juventus credo che stasera si possa essere un po' consumato eh il il come direttamente eh il sorpasso a destra su Darmian quindi bene bene sicuramente Dumfries diciamo che è stato quello che ha cambiato anche l'inerzia della partita quindi forse sull'andamento della gara ha inciso più di tanti altri io voto Barella MVP perché c'è stato dentro anche nei momenti di difficoltà e ha inciso tanto eh dall'altra parte discorso simile per Carlos Augusto che non ha sbagliato nulla è stato anche bravissimo a spendersi una munizione nel momento giusto quindi anche Carlos Augusto per me merita un top assolutamente molto bravo eh anche lui quindi sinceramente lo premio eh anche per il suo lavoro a sinistra eh poi gli altri subentrati frattesi ragazzi anche frattesi comunque eh lui purtroppo quando parte testa bassa eh azzera un pochino tutto quello che c'è attorno non ho fatto quell'azione come dicevo sembrava un po' Zanetti in quel famoso derby eh dove fa tutto il campo eh però se andate a vedere l'azione è frattesi che va a scippare il pallone a Reinildo e fa partire l'azione che porta al gol dell'Inter e poi c'era stata anche un'azione poco prima in cui si è visto un uomo arrivare a 200 all'ora inserirsi nella rigore di testa stava per rifare un un intervento importante eh comunque lui come dico sempre è un giocatore che stressa le linee difensive e un giocatore così inevitabilmente fa comodo soprattutto a gare in corso ma non solo e forse lo possiamo mettere in un ok alto forse eh io gli darei anche top sinceramente in chat mi dite ok alto però e poi eh poi chi è entrato eh Donfres abbiamo detto non mi son perso nessun altro credo solo Alexis Sanchez ha giocato sette minuti eh ha fatto un bello stop sul lancio di 50 metri e lo ha accomodato giù per far ripartire l'azione non gli starei a dare un voto sinceramente in questo momento gli darei senza voto chiudiamo con Simone Inzaghi Simone Inzaghi ragazzi top Simone Inzaghi top eh perché comunque le letture anche a gare in corso sono state corrette eh credo che come diceva lui prima della partita non sapevamo che partita aspettarci da questo atletico perché ha tante facce a tanti volti e a tanti tipi di di gioco da poter fare non concedi nulla in una squadra che sta creando tanto e vai a vincere lo fai cambiando più volte gara all'interno della stessa partita sai diciamo rispondere anche ad una difficoltà che si è venuta a creare con l'infortunio eh di eh di Turam e quindi secondo me si si merita si merita il premio va bene va bene chiudiamo qui le pagelle quindi con con queste valutazioni nei commenti sono curioso di sapere la vostra e fatemi sapere un po' eh vedo l'accetto stasera molto molto accesa no ragazzi barella rimandato non posso accettare dai non non posso proprio accettarlo minimamente dai no ho visto vabbè avrò visto un'altra partita io dai va bene chiudiamo qui fatemi sapere nei commenti ci vediamo su passione inter punto club per approfondire tutto il resto per analizzare tutto il resto e per sapere i vostri voti mi d'accordo